Ciao, sono Cecilia Costantino e oggi ti guiderò in una meditazione dedicata alla legge d'attrazione per fare in modo che tutto ciò che desideri che arrivi nella tua vita possa realizzarsi. Perciò ti invito a trovare una posizione comoda, puoi distenderti sul letto oppure sederti con le gambe incrociate nella posizione del fiore di loto, assicurati di avere la colonna vertebrale ben dritta e la schiena stabile e di sentirti in una posizione rilassante per il tuo corpo nella quale tu possa trovare calma, pace, serenità. Ti invito quindi a chiudere i tuoi occhi e a lasciarti guidare dal suono della mia voce. Iniziamo facendo tre respiri profondi, inspira dal naso, senti l'aria che entra dalle tue narici, che scende lungo la gola, che fa gonfiare i tuoi polmoni, la tua gabbia toracica si espande, il tuo addome si espande, effetto a una respirazione completa. Immagina un'onda che il tuo respiro, che penetra dentro il tuo corpo attraverso le narici, scorre lungo il tuo busto, arriva sino a far gonfiare l'addome e poi risale dolcemente accarezzandoti dall'interno. Respiriamo insieme ancora qualche volta. E adesso, lascia che il tuo corpo si rilassi completamente. Osserviamo ogni parte del tuo corpo senza giudizio, solo nell'ascolto e nell'accoglienza, partendo dalla cima della tua testa, scendendo giù lungo tutto il corpo. Osserva la tua testa, partendo appunto dalla sensazione che prova il tuo cuoio capelluto, ascolta che cosa prova, se sente freddo, caldo, se è rilassato. Ascolta ogni parte del tuo corpo e renditi conto se ci sono tensioni, quali sono le sensazioni che ti comunica, senza giudizio ma nella totale accoglienza. porta l'attenzione alla tua fronte, rilassala, scorri ai tuoi occhi, al tuo naso, alle tue guance. Ascolta la tua mandibola, senti se ci sono tensioni, eventualmente rilassala, puoi abbandonare la lingua sul tuo palato. Osserva la tua nuca, il tuo collo e permettiti di rilassarti, di lasciare che ogni tensione si sciolga, venga abbandonata al terreno e senti il tuo corpo, man mano che lo osservi, parte dopo parte, rilassarsi sempre più. Passa alle tue spalle, alle braccia, sino ai palmi delle tue mani. Ascolta cosa ti comunica il palmo della mano destra e poi porta l'attenzione al palmo della mano sinistra. Senti cosa percepisci, le tue dita, che percezioni hanno. E poi osserva il tuo petto, tutto il tuo busto, il tuo stomaco, la colonna vertebrale. Ascolta i punti in cui la tua schiena tocca il suo supporto, quelli in cui invece non lo tocca. E poi prosegui ancora portando la tua attenzione al tuo addome, ai tuoi genitali. Rilassa il tuo ano, rilassa le cosce, senti il contatto delle cosce, dei polpacci, con il supporto, con una poltrona, con il letto, col pavimento, a seconda della posizione che hai scelto. E visualizza le tue gambe, ascolta cosa ti comunicano, che sensazioni ti trasmettono, le tue caviglie, i tuoi piedi. E ora che il tuo corpo è completamente abbandonato al suo supporto, totalmente rilassato, ti lasci cullare ancora per qualche istante dal suono del tuo respiro e dal battito del tuo cuore. Resta in ascolto. Ed ora immagina che un cielo pieno di nuvole che rappresentano i tuoi pensieri sia nella tua mente e che queste nuvole lentamente si diradino lasciando spazio al sole che sorge a questa luce radiosa, luminosa che prende piede nella tua mente rilassandola creando spazio, armonia, serenità. Una nuova pagina bianca si apre per te e ti dà la possibilità di scrivere una nuova avventura quella che hai sempre desiderato ma per farlo passeremo attraverso la porta del tuo cuore immagina un piccolo te che dalla tua mente scende lungo la colonna vertebrale e raggiunge il tuo cuore immagina di entrare nel tuo cuore utilizzando una scala puoi scendere lentamente i gradini di questa scala dal decimo al primo scendiamo insieme questi gradini ed entriamo nel regno delle tue emozioni del sentire dell'espressione dell'amore e allora insieme il primo gradino il secondo il terzo e man mano che scendi ti senti sempre più rilassato entri sempre più in contatto col tuo mondo interiore con i tuoi veri desideri con il tuo sentire continua a scendere questa scala quarto gradino quinto sesto settimo ottavo adesso sei molto rilassato senti la calma la tranquillità le emozioni la gioia che affiora la voglia di desiderare di creare senti il sorriso che si allunga sulle tue labbra e scendi ancora gli ultimi due gradini per arrivare al fulcro del tuo cuore dove sei avvolto dall'amore dove sei protetto custodito e lì trovi davanti a te un foglio dove sono scritti i tuoi più grandi sogni puoi sceglierne tre il primo legato alle relazioni alla tua relazione amorosa il secondo legato a te come persona alla tua salute al tuo status sociale e il terzo legato al tuo lavoro e adesso apri una porta che trovi in questa stanza al centro del tuo cuore e questa porta da su una spiaggia bellissima luminosa radiosa il sole alto senti il fruscio del vento gli uccellini che cinguettano e cammini a piedi nudi sulla sabbia sentendo i granelli che coccolano caldi i tuoi piedi senti la libertà il contatto dei tuoi piedi con il terreno e ti avvicini sempre di più al mare osserva la battigia le onde che vanno che si ritraggono ascolta il suono delle onde lasciati cullare e adesso permetti di stenderti al sole con i piedi bagnati dall'acqua e senti la sensazione di essere completamente rilassato e ora che anche il tuo cuore è aperto è attivo puoi proiettare sullo schermo della tua mente il tuo primo desiderio quello legato alla relazione amorosa che desideri nella tua vita visualizzati nel posto in cui vuoi vivere visualizza la persona che desideri accanto a te e senti dentro di te l'emozione che proveresti in quella situazione sentila presente sentila viva permetti di sorridere di gioire di questa bellissima visualizzazione visualizza ogni dettaglio i capelli della persona che è davanti gli occhi le sue mani il modo in cui ti accarezza in cui magari ti sfiora il viso e permetti di percepire quella sensazione quella emozione come se stesse accadendo adesso prenditi qualche istante per visualizzare la relazione d'amore che desideri e per sentirla tua come se già l'avessi che esano Adesso, col sorriso sulle labbra, passa al secondo schermo bianco della tua mente, radioso, luminoso, e qui puoi disegnare la tua figura. Visualizza te stesso, totalmente in salute, totalmente forte, vigoroso, senti la pace, la rilassatezza, la gioia. Visualizzati sorridente, soddisfatto della tua vita. Visualizza ogni cosa ti possa rendere felice, ma pensa solamente a te stesso in questa visualizzazione. Sentiti veramente gioioso, senti ogni poro della tua pelle che trasuda gioia, ogni cellula del tuo corpo che sorride. Prenditi qualche istante per percepire questa gioia, questa sensazione di benessere, questa rilassatezza profonda e la consapevolezza di essere perfettamente te stesso, accogliendoti, apprezzandoti così come sei. Perfetto. E adesso, ancora col sorriso sulle labbra, Visualizzati nella tua situazione di lavoro ideale, non avere paura di nulla, di desiderare, di visualizzare. Visualizza di guadagnare molti soldi, di essere soddisfatto e felice per il lavoro che stai svolgendo. Visualizzati nel tuo posto di lavoro, sorridente, soddisfatto, sereno, contento di quello che stai facendo. Se sei a contatto con qualcuno, visualizza una scena di lavoro che potrebbe presentarsi e senti l'emozione sulla pelle di quel momento. Senti la gioia, la felicità, la soddisfazione. Prenditi qualche istante per visualizzare come sei vestito e quello che sta accadendo, nella totale gioia, come se lo avessi già. Adesso che hai visualizzato i tuoi desideri e hai sentito le emozioni dentro il tuo cuore, puoi permetterti di rilassarti totalmente affidando il tuo cuore con i tuoi desideri all'energia dell'universo, consapevole del fatto che tutto ciò arriverà presto da te nella tua vita. Rilassa completamente il tuo corpo, senti la gioia di aver ottenuto tutto quello che desideravi. Senti il sorriso che si estende sul tuo volto e porta questa gioia, questa sensazione di benessere nella tua giornata. Immagina che tutto il tuo corpo sia irradiato da una luce bianca di pace, d'amore, di serenità. E immagina che questa luce si espanda tutto intorno a te, raggiungendo ogni essere vivente, ogni forma di vita sulla terra, connettendoti al tutto e lascia che il tuo cuore sia la fonte inesauribile di questa luce. Porta il tuo sorriso con te e adesso lentamente riprendi contatto con il presente, con la realtà. Inizia a muovere le dita delle mani, dei piedi, senti lentamente il contatto delle dita con il letto o con il terreno. Riprendi contatto col tuo corpo e con quello che c'è all'esterno e lentamente, quando ti sentirai pronto, potrai riaprire gli occhi. Namaste